Liberalizzazioni sì, ma non selvagge. Questo è il motto di AdiConsum in merito alle nuove norme sugli orari dei negozi. Secondo l'Associazione Consumatori della Cisla, in questo difficile contesto economico si devono evitare scontri o disparità fra piccola e grande distribuzione. Per questo serve una soluzione in grado di venire incontro sia alle esigenze dei consumatori, sia a quelle dei commercianti, siano essi impiegati in piccoli negozi o dipendenti di supermercati e centri commerciali. La nostra proposta è che a tutti i livelli regionali e comunali si discuta, seduti al tavolo, con commercianti, piccole e grandi distribuzioni, consumatori e ovviamente le amministrazioni, perché si facciano dei turni, un po' come si fa con le farmacie, tanto per intenderci. Questo perché da un lato permetterebbe ai consumatori di rivolgersi anche in orari e che oggi sono inusuali, ma permetterebbero al piccolo commercio di salvarsi, perché così facendo invece verrebbe letteralmente distrutta da questa logica, e ai lavoratori del grande commercio di essere maggiormente tutelati. Secondo Adconsum non è necessario che tutti i negozi, gli esercizi commerciali di prossimità, i supermercati e i centri commerciali siano costantemente aperti fino a tardanotte, così come non è necessario che tutti restino aperti nelle festività. Basta che si organizzino dei turni per far lavorare tutti senza creare disparità. Altra questione riguarda i ribassi, che di fatto vengono già applicati tutto l'anno dalla grande distribuzione, a svantaggio dei piccoli commercianti, che lamentano una concorrenza sleale. Hanno ragione, teniamo presente che noi da tempo stiamo chiedendo, anche a luce di quello che è successo proprio qualche ieri, con l'indagine della finanza, di cui penso ne hanno parlato un po' tutti, cioè i saldi non hanno più ragione di esistere, gli sconti li fanno tutto l'anno e con questa logica sono proprio le grandi distribuzioni che hanno più potere. Bisogna liberalizzare in questo senso la possibilità dei commercianti di farsi concorrenza gli uni con gli altri tutto l'anno, sui prezzi e sulla qualità, ma non attraverso queste campagne di promozione che anticipano i saldi nei fatti e quindi li dia legittimo.